Aspetta ma, Laura, il tuo tour in Nord America non comincia mica fra sei mesi. Sei mesi e basta. Sei mesi e basta. Siamo già in ritardo. Guarda che devi prepararti la valigia. Laura, aiuti me tu via i vestiti. Tu fai il check-in perché non abbiamo un secondo da perdere. Partano senza di te. C'è tempo, c'è tempo. Ma se c'è traffico in autostrada. Sai che se le arrotoli i vestiti prendono meno? E jeans? Per forza perché tu fai l'americano. Ehi, guarda che ti sei dimenticato delle cose. Cosa mi son dimenticato? L'olio d'oliva. Ma che miseria, hai ragione. La pasta. Il sugo fatto in casa. Eh sì. Il parmigiano e l'oreggiano. Oh, sennò la mamma è già solo hamburger e patatine fritte. Dai, su, Laura. L'olio d'olio 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 d'olio.